Con il nome di periostosi tossica dell'attante o a reazioni periostea specifiche di origine e tossa infettiva, si definiscono proliferazioni periostali diffuse e interessanti simmetricamente le ossa di affisare degli altri, che possono riscontrarsi nell'attante nel corso di svariate malattie di origine batterica generalizzate, sepsi e setticopionie, o localizzate, ascessi, poruncoli, impettigie, broncopolbuline. Esse non hanno il significato di lesione a focolario, ma rappresentano solo una reazione specifica da parte del periosteo allo stimolo irritativo di natura tossica. Periostosi tossica dell'attante Bambino di 4 mesi Onfalite purulenta con stato ascettico grave e distrofia nutritiva Osteoporosi e reazione periostea simmetrica dei firmi Osteoporosi e reazione periostea simmetrica dei firmi Pag.